L'Abruzzo è pronto ed accogliente e il segnale di forte solidarietà al popolo ucraino arriva così dal presidente della giunta regionale Marco Marsiglio che all'Aquila, nella sede della protezione civile regionale alla presenza dell'assessore alla salute Nicoletta Veri ha riunito prefetti, questori, direttori delle ASL e associazioni dei comuni per fare il punto sugli arrivi di cittadini ucraini dalle zone di guerra e definire le modalità di accoglienza in sicurezza anche nel rispetto delle normative in vigore sul contenimento dei contagi da covid-19. Tanti temi sul tavolo, trasporto, assistenza sanitaria, alloggi, spese e anticipazioni di cassa. Il presidente della regione, in qualità di commissario delegato, ha nominato quale soggetto attuatore l'Agenzia di protezione civile regionale, nella persona del direttore Mauro Casinghini, per coordinare l'organizzazione del sistema territoriale per gli interventi e per le attività di soccorso e assistenza ai nuovi arrivi. La giunta regionale presieduta dal presidente Marco Marsiglio, su proposta dall'assessore alla salute Nicoletta Veri, ha approvato il piano strategico digitale della sanità relativo al triennio 2021-2023. Via libera, sempre su iniziativa dall'assessore Veri, anche ai progetti per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il 2021, derivanti dall'accordo tra governo, regioni e province autonome, con l'individuazione di sei linee progettuali. Deliberata poi anche la revoca dell'intervento relativo al presidio ospedaliero Santissima Annunziata di Chieti, finanziato nell'ambito del programma nazionale di interventi per il rischio sismico. Si tratta dell'intervento di demolizione del Corpo C e della ricostruzione fuori sito del nuovo Corpo Radiologia, autorizzato dalla ASL Lanciano Vasto Chieti, per un importo pari a 4.526.489 euro. Tale intervento non ha mai avuto inizio, in quanto nel tempo sono sorte diverse problematiche relative alla demolizione del Corpo C del medesimo nosocomio, manifestate dall'Università d'Annunzio e dal movimento dei primari universitari e ospedalieri dell'ospedale clincizzato di Chieti. Inoltre si è stabilito di procedere con successivo apposito atto di giunta regionale alla riassegnazione delle risorse revocate destinandole alla realizzazione di interventi antisismici su altri edifici a destinazione sanitaria in posizione utile nell'elenco delle priorità dei presidi ospedalieri. Via libera anche al piano dell'attività di governo clinico della pediatria di libera scelta per l'anno 2022. Fino al prossimo 31 marzo sarà possibile riscuotere presso tutti gli uffici postali le borse di studio del programma ministeriale Io studio relative all'anno scolastico 2020-2021 riservate agli studenti delle scuole medie superiori. Lo ha comunicato l'assessore all'istruzione Pietro Quaresimale dopo che il ministero ha accreditato le somme destinate all'Abruzzo all'attesa e oriria delle poste italiane. Per venire incontro alle famiglie, ha precisato Quaresimale, abbiamo provveduto ad inviare ai comuni nei quali sono residenti gli studenti l'elenco dei beneficiari in modo da accelerare le procedure di riscossione. In questo senso chiediamo ai comuni la necessaria collaborazione affinché avvisino i destinatari delle borse di studio per invitarli quanto prima alla riscossione presso gli uffici postali. Per l'anno scolastico 2020-2021, ha precisato Quaresimale, all'Abruzzo sono stati accreditati circa 870.000 euro che hanno permesso di finanziare 4.347 borse di studio a studenti con reddito familiare Isee di 7.934 euro per un importo di 200 euro ciascuna. Via libera lo screening gratuito per la prevenzione del virus dell'epatite C riservato ai nati tra il 1969 ed il 1989. Lo ha deciso l'Aggiunta regionale che ha approvato la delibera proposta dall'assessore della salute Nicoletta Verì. La campagna, che partirà non appena saranno concluse le procedure di approvvigionamento dei test necessari e allestita la struttura organizzativa delle aziende sanitarie, coinvolgerà anche tutti coloro in carico ai SERD, i servizi pubblici per le dipendenze delle ASL e i detenuti negli istituti penitenziari abruzzesi, a prescindere dall'età. Il test sarà eseguito attraverso un semplice prelievo di sangue venoso. Il problema dell'infezione cronica ad epatite C, ha spiegato l'assessore, rappresenta al momento una delle sfide principali della nostra sanità regionale, visto che in Abruzzo la sua prevalenza è significativamente maggiore rispetto ad altre del paese e coinvolge circa il 3% della popolazione. Recenti studi hanno rivelato un picco inatteso nella fascia d'età tra 35 e 50 anni, ma di questi pazienti si stima che almeno la metà non sia consapevole del proprio stato di salute. La giunta regionale, su input dell'assessore Nicola Campitelli, ha deliberato il progetto di legge recante disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione del patrimonio di vizio ai fini della definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale. Tale progetto di legge, nell'ambito delle politiche di contenimento del consumo di suolo, di recupero del patrimonio di vizio e di rigenerazione urbana, intende promuovere misure volte al miglioramento della qualità della vita delle persone e al riordino urbano, mediante la realizzazione di interventi mirati alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale, con particolare attenzione alla valorizzazione e tutela dei terrini agricoli, alla valorizzazione del paesaggio, alla rinaturalizzazione dei suoli, all'implementazione delle centralità urbane, nonché alla sicurezza delle aree soggette a rischi territoriali. Il Ministero delle Politiche Agricole, con l'accoglimento da parte del Comitato Nazionale Vini, ha dato il via libera alla menzione superiore per le DOP d'Abruzzo e ridotto il numero delle IGT. Passeranno da 8 a 1. Obiettivo del nuovo modello è di rafforzare la comune identità dell'onologia regionale, valorizzando così singoli territori. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa, che si è tenuta a Pescara alla presenza del Vice Presidente, con delega l'Agricoltura, Emanuele Imprudente, del Presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, Valentino Di Campli. È un grande risultato per il sistema vitivinicolo regionale, quello ottenuto dalla Regione Abruzzo e dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, che va a ridefinire i disciplinari di produzione grazie al cosiddetto modello Abruzzo, ha spiegato il Vice Presidente Emanuele Imprudente. Si tratta di un passo decisivo nel percorso di crescita qualitativa del mondo enologico abruzzese. È una svolta strategica, conclude Imprudente, che punta a esaltare i differenti territori e la straordinaria biodiversità dell'intero Abruzzo, sempre più coeso e capace di fare squadra.